Acqua potenzialmente pericolosa per la salute dei cittadini e il sindaco Torquato Stamane ha emanato un'ordinanza con la quale dispone di non usare la risorsa idrica e i prodotti agricoli nelle zone colpite dall'alluvione di giovedì scorso. Il divieto prevede la non commercializzazione e consumo di prodotti agricoli provenienti dai fondi alluvionati e il divieto di utilizzo delle acque e dei pozzi di quelle zone sia per uso domestico che per l'irrigazione. Il tutto per un periodo ancora non meglio precisato come ci ha spiegato proprio il sindaco Torquato. Ma è l'ordinanza che si fa, dico per prassi, purtroppo spiace dovere dire per prassi perché significa che questi eventi hanno una loro ripetitività per cui oramai è collaudato il meccanismo in ragione del quale l'autorità amministrativa comunale nella persona del sindaco che è anche autorità sanitaria dispone preventivamente e cautelativamente a tutela della salute delle persone di sospendere l'utilizzo, la coltivazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli che sono stati inondati dalle acque della solofrana salvo la possibilità per i coltivatori di fare poi una verifica, una campionatura tramite ASL, cioè l'ASL e tramite l'ARPAC su quella che è la consistenza effettiva dell'eventuale inquinamento, perché prudenzialmente va detto questo, dell'eventuale inquinamento dei terreni ed è anche un'inibizione all'utilizzo delle acque e dei pozzi di accesso per fini alimentari. Questa è una cautela che si adotta in questi casi proprio per le note problematiche di inquinamento della solofrana. Le zone interessate e soprattutto fino a quando questa ordinanza poi eventualmente potrà essere revocata? L'ordinanza va revocata o può essere revocata nel momento in cui viene accertato che questo tipo di pericolosità a seguito anche di bonifica dei terreni, delle colture interessate da parte dei proprietari delle stesse, non viene certificata e dimostrata da parte degli enti cui ho accennato prima, che sono l'ASL e l'ARPAC. L'area è solo via Pascoli o è interessante? È la parte interna, cioè tutta quella che è stata toccata dalle sondazioni, dalla rottura degli argini e all'arrivo delle acque. Quindi tutto il comparto che va dalla sinistra idraulica scendendo verso San Marzano dell'alveo comune Nocerino, verso via Pascoli e al di là di via Pascoli va verso l'interno in direzione Pagani, perché sono i territori che sono stati toccati da questa presenza di acque.